I 5 prodotti più venduti su Amazon 1. I cerotti per vesciche ai piedi sono progettati per proteggere e lenire le vesciche, offrendo una barriera adesiva e flessibile contro l'attrito e la pressione. 2. L'organizer per cavi mantiene i tuoi cavi in ordine e senza grovigli, semplificando la gestione e l'accesso. Un modo pratico per sfruttare al meglio lo spazio. 3. Supporto da parete per cellulare adesivo è la soluzione perfetta per mantenere il tuo smartphone a portata di mano in modo sicuro e pratico. 4. Supporto per cellulare da auto universale utilizza il principio della gravità per garantire una presa sicura e stabile del tuo smartphone mentre sei in viaggio. È facile da installare e adatto a una vasta gamma di modelli di telefoni. Mantieni il tuo telefono a portata di mano in modo sicuro durante la guida. 5. Organizzatore multilivello estensibile è la soluzione ideale per massimizzare lo spazio nei tuoi mobili da cucina. Puoi personalizzarlo e adattarlo alle tue esigenze, creando spazi organizzati per i tuoi alimenti.